Il mercante, il nobile, il pastore e il principe, da Favole di Gendela Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Un mercante, un nobile signore, un principe, un pastore, esploratore di novelli mondi, sospinti dal furor dell'oceano, raminghi, ignudi, come belisari in ridotti a stendere la mano. Assai lungo, osaria il dir, come ciascun nella miseria precipitasse per diversa via. Quella sventura, che li fa fratelli, li condusse a tenerti al loro consiglio, d'una fontana sull'erboso ciglio. Il principe narrò la lunga storia dei grandi decaduti. Che importa la memoria, disse il pastor, di quelli che son già morti e chiusi negli avelli? Per noi si tratta di mangiar, signor, e il piangere, per quel che ho sempre udito, non toglie l'appetito. Andiamo, lavoriamo, chi lavora sta sano e va lontano. Non vi stupisca se costui rincore i suoi compagni. Forse che alle sole teste dei re dal cielo si conceda di ragionarmi male? No, un villano, infine, non è una pecora, ovvero è molto men che non si creda. Il suo consiglio parve veramente a tutti gli altri in Africa eccellente. Il mercante valente in aritmetica soggiunse allora. Di conti a un tanto al mese darò lezioni e caverò le spese. Ed io nella politica esclamò il principe e la gente istruirò. Ed io, concluso il nobile, lezioni d'alta araldica darò. Pensate voi che voglia hanno in America, là verso Patagonia, di queste vanitose rarità, onde il pastore ha dire ancora riprese. Sta ben, ma trenta giorni ha ciascun mese e spesso non ha trentuno. Intanto chi un boccone mi darà per rompere il digiuno? Voi mi offrite una splendida speranza, molto lontana, e brontola frattanto il ventre che non pranza. Chi mi procura intanto per dimane, anzi per oggi il pane? Questo importa anzitutto, e in questo affare la vostra scienza è debole, mi pare. Per supplir con la mano a quel che manca, dentro il bosco il pastore un giorno intero e un altro non si stanca di raccogliere legna, e in pagamento ne trasse necessario per sostenare la vita del momento. Senza di lui, nemmeno i suoi compagni avriam potuto vendere ai popoli lontani il loro talento. Per vivere qua giù non va la pena ad esser dotti, ma per te procura allegra volontà di man, di schiena, il primo aiuto che ti dà natura. Fine della favola Il mercante, il nobile, il pastore e il principe Fine del libro decimo Questa registrazione è di dominio pubblico.